E' stata minacciata semplicemente per avere scritto del produttore di canzoni che esaltano questa organizzazione criminale. Ci racconti della sua esperienza? E' successo questo che alcuni anni fa ho scoperto quasi per caso che c'era un cd di canzoni di Indrangheta che aveva un grande successo fuori dalla Calabria e fuori dall'Italia, e cioè in Germania. Incuriosita da questa cosa che trovavo piuttosto anomala, anche conoscendo molto bene l'ambiente tedesco e quanto io ho studiato e lavorato lì, ho cercato di approfondire questo tema, ho incontrato i cantanti che avevano registrato questo cd, ho incontrato anche il produttore e da lì è iniziato un lavoro di approfondimento e di ricerca che mi ha portata alla fine a svelare come in realtà questo successo, il successo delle canzoni di Indrangheta in dialetto calabrese in Germania non fosse una cosa da sottovalutare né un fatto ascrivibile alla bellezza delle canzoni e delle musiche che al contrario, come molti sanno, sono piuttosto brutte, truculenti, volgari, non hanno assolutamente niente di artistico e niente di folcloristico perché non è il folclore calabrese questo, non sono canzoni legate alla cultura e alla musica popolare per cui soprattutto analizzando la cartella stampa, i vari articoli che sono usciti sia in Germania che in Francia e in Inghilterra mi sono resa conto che c'erano degli elementi comuni e che non era casuale né il successo né quello che i giornalisti raccontavano perché in realtà i giornalisti erano diventati la cassa di risonanza di un gruppo di persone una persona in modo particolare che aveva come obiettivo la diffusione di mentalità e valori indranghettisti in Germania in pratica attraverso le canzoni e grazie soprattutto all'ingenuità in alcuni casi alla Mela Fede e in altri casi dei giornalisti in Germania si è creata una sorta di consapevolezza, di mentalità diffusa su alcuni valori che non appartengono alla società tedesca come per esempio l'onore e l'omertà, ormai è come se loro avessero insegnato, voluto insegnare ai tedeschi come ci si comporta per non avere problemi con la criminalità organizzata